Anticipazioni tempesta d'amore. Giovedì 8 aprile 2021. Franzi perde il cellulare. Tim decide di aiutarla a ritrovarlo. I due si inoltrano nel profondo del bosco. Il ragazzo determinato a passare la notte con lei si inventa una scusa. Finge di aver perso anche lui il suo cellulare. Werner viene ricoverato in ospedale dopo il malore che ha avuto. Si teme per la sua vita. Per fortuna la mattina dopo l'uomo si sente meglio. Robert passa a trovarlo e scopre che Arianne ha tramato crudelmente contro di loro per distruggere l'immagine dell'hotel. Lo chef indignato passa dalla Kallenberg. La conversazione prende una brutta piega tanto che Robert, sempre più furioso, tenta di strangolare la sua nemica. Sebastian è molto attratto da Rosalie. La donna per indebolire l'interesse dell'uomo nei suoi confronti finge di essere sposata con Michael. Quando poi parla al dottore del suo piano affermando che presto ci sarà un quiz, Michael dice alla Angel di voler prendere parte al grande evento in quanto ha un conto in sospeso con Sebastian. André vede i due confabulare e si insospettisce. Vanessa soffre per l'assenza di Robert. a Grazie.